ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova video lezione oggi continuiamo a parlare di idrolisi salina e ci soffermeremo in modo specifico sulla idrolisi acida abbiamo detto nella precedente lezione che non soltanto gli acidi o le basi classiche possono influenzare il ph di una soluzione acidi per esempio come l'acido cloridrico l'acido acetico l'acido solforico che danno origine a un ph minore di 7 oppure basi come l'ammoniaca o l'idrossido di sodio che danno origine a ph maggiore di 7 il ph può essere fortemente influenzato anche quando noi andiamo a sciogliere dei sali in soluzione acquosa i sali sappiamo che si dissociano e gli anioni o i cationi che ne derivano possono potrebbero dare generare una reazione con l'acqua e dare quindi origine a quel fenomeno che viene chiamata idrolisi salina io ho preso in considerazione quattro possibilità che poi tra l'altro sono quelle che vengono sempre studiate e cioè noi abbiamo a che fare per esempio da sali che derivano da acidi forti e da basi forti e danno un ph neutro il ph uguale a 7 il classico esempio è il cloruro di sodio noi sappiamo che il cloruro di sodio deriva dalla reazione per esempio tra l'acido cloridrico e l'idrossido di sodio e va a generarsi quindi n a più cl meno più h2o ora se noi andiamo a inserire il sale nell'acqua cl meno più h2o abbiamo una totale dissociazione con n più più cl meno ora l'acqua si dissocia sappiamo anche in h più più o h meno benissimo ora in questo caso questi due ioni cioè sia il sodio che il cloro non sono in alcun modo propensi ad andare a riprendere per esempio il sodio il gruppo h per andare a rigenerare l'idrossido o il cloro andare a riprendere lo ione h più per andare a rigenerare l'acido cloridrico per cui rimangono tal quali dissociati e rimangono dissociati pertanto il ph della soluzione sarà pari a 7 e poi abbiamo le sali che provengono da un acido forte e una base debole ed è quella che adesso noi andremo a studiare daranno un ph minore di 7 l'esempio classico è il cloruro di ammonio poi quindi acido forte ph minore di 7 se abbiamo un sale che proviene da un acido debole e una base forte quindi base forte ph maggiore di 7 se abbiamo invece degli acidi delle basi dei sali che provengono da acidi deboli o basi deboli dobbiamo andare a studiare le loro costanti acide e basiche e quindi in funzione della forza della costante basica rispetto all'acido possiamo avere un ph maggiore di 7 minore di 7 o uguale a 7 a proposito vi rimando alla lezione in cui abbiamo parlato della relazione fondamentale tra le costanti acide e le costanti basiche bene entriamo adesso e vediamo di esaminare l'idrolisi acida consideriamo il cloruro di ammonio il cloruro di ammonio è un sale che deriva per esempio facendo reagire ammoniaca più un acido forte che può essere l'acido cloridrico dalla reazione quindi otteniamo che cosa nh4 più cl- quindi otteniamo questo sale più h2o bene ora immaginiamo di andare a prendere questo sale e andare a scioglierlo in acqua quindi che cosa accade che se noi andiamo a sciogliere il cloruro di ammonio in soluzione acquosa otterremo la sua totale dissociazione più cl- chiaramente più h2o ora esaminiamo l'ione cloro e l'ione ammonio l'ione cloro è la base che deriva da un acido fortissimo e quindi l'ione cloro è una base debolissima che non è in alcun modo propenso ad andare a riaccettare gli ioni h più per andare a dare a rigenerare l'acido cloridrico mentre lo ione ammonio non è altro che l'acido coniugato della dell'ammoniaca e quindi è in questo caso l'acido coniugato di una base debole che in grado di andare a rilasciare gli ioni h più perché è una un acido coniugato moderatamente forte quindi consideriamo adesso l'idrolisi salina dello ione ammonio più h2o quindi che cosa accade accade che lo ione ammonio quindi è in grado di rilasciare in soluzione acquosa ioni h più cosa va va a ristabilire la base debole da cui proviene quindi avremo in questo caso un aumento di ioni h 3 o più con un ph che sarà minore di 7 ricordiamoci sempre non dimentichiamo mai che la relazione fondamentale kv è uguale ad h più però h meno dobbiamo sempre considerare che alla diminuzione o l'aumento dello ione h più o h meno deve corrispondere una corrispettiva un corrispettivo aumento o diminuzione perché il prodotto ionico deve rimanere sempre costante 1,0 per 10 alla meno 14 bene ora noi a questo punto andiamo a determinare la costante di questa idrolisi che viene chiamata costante di idrolisi quindi ki è uguale al prodotto delle concentrazioni della ammoniaca per la concentrazione molare degli ioni h 3 o più fratto la concentrazione molare dell' n h 4 più ora se io vado ad esaminare questa costante quindi qui ho riportato quello che vi devo dire perché è estremamente importante abbiamo detto che si è rigenerata la base debole quindi se noi andiamo a considerare le relazioni che intercorrono tra l'ammoniaca quando viene sciolta in soluzione acquosa che farà avrà quindi determinerà una liberazione di che cosa di ioni o h meno in quanto l'ammoniaca va a prendere gli ioni h più rilasciati dall'acqua quindi avremo questa costante basica che è uguale alla concentrazione dello ione ammonio per la concentrazione degli ioni o h meno fratto la concentrazione dell'ammoniaca ora se noi consideriamo la reazione inversa così come abbiamo visto qui quindi lo ione ammonio che in questo caso funge da acido ok coniugato abbiamo la stessa espressione che abbiamo visto qui e in quel contesto l'avevamo definita come costante acida ok dell'acido coniugato e quindi noi troviamo la stessa formula lo stesso equilibrio che abbiamo inserito qui e quindi cosa possiamo scrivere a questo punto che la ki sarà uguale alla k ma noi sappiamo dalla relazione fondamentale che kv è uguale alla k per la kb e quindi andando a sostituire il valore possiamo dire che la costante di idrolisi o idrolisi è uguale al prodotto ionico dell'acqua fratto la costante basica questa ragazzi una relazione importante che non dobbiamo in alcun modo andare a dimenticare ora posta questa relazione il calcolo del pH rimane estremamente agevole nel senso che lo possiamo sempre calcolare come abbiamo fatto nei presenti calcoli di pH solamente che dobbiamo sempre considerare il grado di dissociazione e quindi possiamo utilizzare quindi h3 o più oppure h più come noi vogliamo definirlo uguale ad h più la stessa cosa quindi uguale alla costante di idrolisi per la concentrazione analitica del sale ma sappiamo che la costante di idrolisi quindi sappiamo quindi che è uguale al rapporto del prodotto ionico dell'acqua quindi kv fratto kb quindi h3 o più è uguale a kv fratto kb per la concentrazione analitica del sale questa è la relazione semplificata quando cioè possiamo trascurare in questo caso gli ioni rilasciati dall'acido debole nel caso in cui non possiamo in alcun modo andare a trascurare questi ioni dobbiamo considerare questo quest'altra relazione ora il pH rimane un giochetto estremamente semplice quindi una volta che abbiamo determinato la concentrazione degli ioni h più quindi in questo caso il pH uguale al meno logaritmo della concentrazione degli ioni h3 o più noi faremo alcuni esempi ma questa seconda parte rimane tal quale bene io ho terminato la lezione vi invito a iscrivermi al canale a supportare il mio canale un saluto e alla prossima lezione